La misericordia di Avellino è in viaggio per l'Albania con il primo carico di beni di prima necessità destinato alle popolazioni terremotate. I confratelli hanno caricato il pulmino di pacchi contenenti soprattutto plaid, coperte e cappotti. Materiale raccolto in questi giorni grazie alla solidarietà di tanti cittadini che hanno risposto all'appello della misericordia, come ci spiega Cristian Pierni. La raccolta di beni per aiutare le famiglie albanesi in sofferenza tra le macerie è un rigido e doloroso inverno. Continuerà a oltranza. Sì, questo è il primo viaggio di beni di prima necessità. Abbiamo risposto all'esigenza della Confederazione di raccogliere questi beni che andranno subito tramite la misericordia di Andria alla misericordia di Elbassan. Perché fortuna ha voluto che a settembre sia nata la prima misericordia albanese. Tramite l'appoggio della carita albanese questi generi andranno subito a disposizione della popolazione. Ringraziamo tutta la cittadinanza vellinese e anche un esercizio commerciale che ci ha donato beni come bagnoschiuma, come detersivi, come scarpe, come coperte, lenzuola, giocattoli, peluche. Ringraziamo tutto quello che è fondamentale per non solo sopportare le temperature rigide dell'inverno ma anche per far sentire un po' più integrati chi ha perso tutto. Quindi un modo per arredare virtualmente la loro casa che purtroppo in questo momento è una tendopoli. Una raccolta di beni da parte della misericordia che continuerà ad oltranza. Sì, continuerà ad oltranza per sei mesi. Quindi l'invito è che dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 24, chiunque, soprattutto in questo periodo natalizio dove c'è la corsa allo shopping e la corsa al consumismo generale, chi vuole può donare qualcosa, noi siamo ben accetti. L'obiettivo è quello di far reperire e far pervenire questi beni almeno ogni 15 giorni e mandarli tramite i misericordia pugliesi in Albania.